Amiche e amici, buonasera, ciao, come state? Che bel lunedì! Oggi qua ha fatto caldissimo, ha fatto perché da che ha girato il sole oltre la casa che ci ombreggia qua di lato nel vicoletto, è già più freschetto. E quindi ho due belle magliette, ho una maglietta e un cardigan sottili, che belli, nei toni dello stucco chiaro, sapete lo stucco, quello che bloccava i vetri delle finestre, che ci si andava a fare tutti gli stampini con le unghie? Io me lo ricordo bianco, me lo ricordo grigio, me lo ricordo di questo colore qua, che mi piace, mi piace tantissimo. Io ho su il mio chalet realizzato con il Geo delle Lollo, quello famoso tutorial balengo, i miei sono tutti un po' balenghi come i tutorial, chissà, al prossimo, oh ve ne ho promessi tanti, mannaggia, e ci avete pure ragione. Poi per tanto mi piace chiacchierare con voi, è che sono molto uffi, sono piuttosto maldestra, lasciamo passare la macchina, macchina nuova, sono piuttosto maldestra perché non mi trovo con il telefono, che devo guardare attraverso il telefono, io che già non sopporto di guardare attraverso le lenti degli occhiali, guardare attraverso il telefono dall'alto, lavorando sotto mi sento strabica, però ci riproveremo. Ma di che cosa vi volevo parlare? Vabbè, direi di fare le conclusioni riguardo alla confezione del bomber che Camilla già sta indossando da domenica, da ieri. Ah, rifacimenti, rifacimenti contro canti, sì, va bene, quel bel collo doppio che avevo cucito tanto bene, e poi per fare il collo doppio, visto che doveva stare in alto, ho ripreso i punti dall'esterno verso l'interno. Invece per portarlo come desidera adesso sarebbe stato più carino, forse, non saprei, forse avrebbe reso di più, al contrario, ma adesso lo tiene così perché che cosa ho fatto? Mi c'è voluto una nottata per fare quel collo e poi per fare tutto il resto, per finire di cucirlo. Ho dovuto riaprirlo e quasi dimezzarne l'altezza, non del tutto, e scucire una cosa cucita bene, cucita bene con lo stesso filato. Ne parlavo stamattina, stasera, con mia madre, stesso problema del fai ed isfa modifica, che quando cuci bene non vedi più dove sei passata, e fai disastri con le forbicine, vedete quelle belle forbicine là? Oh, anche quelle, no, quelle non mi ricordo, sì, forse con un abbonamento, allora, come gadget di un abbonamento a Rackam, mi sa di sì, o comunque acquistate tramite Rackam, non so, prendendo qualcos'altro, però è con Rackam che mi sono arrivate, le dovrei far affilare. Devo andare a vedere se il nostro, come si chiama, come si chiama quello che vende i chiodi, adesso mi viene il terfambro, vado dal ferramenta, ci sono arrivata, se ce lo fa, vado anche alla gradia, magari le affilano anche loro, certo, sono delicatine, adesso queste le usavo per l'intaglio, poi ne ho prese altre due per l'intaglio, ne ho prese una con la lama stondata, curvata, non stondata, curvata, è un'altra sempre con delle belle punte, mi sono sparita, devo trovarla in quel caos del mio studio, veramente do un posto ad ogni cosa, è che poi le mani che vanno non sono solo le mie, io sarò anche disordinata, ma è il mio disordine, io mi ci capisco, gli altri non capiscono, quindi è solo disordine. C'è una menù con la coda tra le gambe, fa la guardia al cancello, le sente passare. Cosa c'è menù? Il gatto è qua che dorme, vieni qua. Va bene, le conclusioni, cosa ho da raccontare? Allora, intanto ho da raccontare questo filato, non so se sentite come fruscia. Allora, lui è il botto, è uno dei filati di punta che più ci ha colpiti appena si sono presentate le lollo. Io subito, non l'ho conosciuto, è prestissimo, anche se questa avventura dura da meno di un anno, mi pare, pare proprio di sì, come l'ho conosciuto e sono stata contattata, mi è stata fatta una proposta di assaggi, ho detto anche sì, grazie, sono state gentilissime e da lì tra noi di casa qua e mia madre a distanza, insomma, ci stiamo divertendo nello scegliere i loro filati, i loro colori, i loro prodotti. Devo dire veramente che è divertente, c'è la nota divertente che è il gadget, che lo chiamo gadget, insomma, regalano sempre una sorpresa. E poi i bigliettini di ringraziamento che fanno veramente sempre piacere, perché noi che acquistiamo filati ci sentiamo un po' dei clienti speciali, un po' come chi compra libri, che ci affezioniamo al nostro libraio, che acquistare a distanza, sì, perché lo hai velocemente magari, ma come vuoi mettere ad andare in libreria e chiacchierare e sentirti il cliente speciale, quello riconosciuto, quello che già ti dicono, ah, ho qualcosa di bello per lei, oppure guardi, guardi, vada, io ho sempre avuto un rapporto bello con i miei librai, sono cresciuta con un libraio proprio del cuore, il nostro, del santo, alla spezia, che timore, che vergogna, che timidezza, un omone, severo, un bordello, quella libreria, uno stava fuori, c'era lui che aveva un gran disordine nella libreria e poi c'era l'edicolante, uno dei due edicolanti di Piazza Verdi, quella che adesso è diventata una roba mostruosa, io non l'ho ancora vista da quando l'hanno modificata, sono affezionata alla mia vecchia piazza, non ci voglio andare a vedere Piazza Verdi nuova, la spezia, non che no. La libreria di Attilio del Santo è stato un punto di riferimento per la bella cultura italiana della seconda metà del Novecento e lì si sono trovati scrittori, pittori, è vero che era anche galleria d'arte, quindi presentavano spesso delle collezioni importanti, hanno avuto Carrà, ne hanno avuti di belli, io ci ho messo le mani alle locandine d'epoca, delle mostre, ho messo le mani su tante cose e poi ve la riracconto quella avventura che ha riguardato l'allestimento di una mia prima mostra a Castel Gandolfo come evento di chiusura del Giubileo, nel 2000 ovviamente, e poi quando mi è stato chiesto di allestire la mostra per il centenario della Camera di Commercio della mia città dove ogni mese in quell'anno hanno dedicato, dedicarono insomma un periodo espositivo e narrativo a personaggi che sono stati importanti e preziosi per la città. Il secondo, in quell'anno, quindi febbraio, fu dedicato ad Attilio del Santo e in quell'occasione il figlio, l'erede, donò alla sede insomma della Camera di Commercio le vetrine che davano su strada, insomma era una bellissima libreria, legni pregiati, molto rigorosa, insomma considerando l'epoca di allestimento, bella, bella, un grande amore per quella libreria lì dove questi personaggi si trovavano non solo a discutere della propria arte ma anche a giocarsi alla carte o comunque era un luogo di ritrovo, di scambio, di pensiero e di tante cose, di tanta vita e quindi torniamo a noi che amiamo i filati, ecco il rapporto speciale che noi ci sentiamo proprio così, che vogliamo essere un po' avvizzati ma neanche ci vogliamo riconoscere come persone preziose, uh che bello ho preso un gomitore che ti dicono grazie, come stai, che bello, grazie e ecco già un ringraziamento, anche un disegnetto, un fiorellino che ti arriva insieme a un tuo gomitore ti senti contenta come se te l'avesse mandato tua nonna, ecco quella cosa, la tua amica del cuore ti senti già parte di un mondo speciale quando acquisti i filati e io mi ricordo che grugno, dico vabbè, stavo cercando dei filati particolari anni fa e l'avevo trovati solo lì nelle colorazioni perché erano filati commerciali, diciamo molto conosciuti mi serviva una gamma di colori e l'avevo trovata insomma presso un negozio su strada e un e-commerce comunque, poco presente il negozio, mi ricordo avevo notato gli orari che volevo mandarci mia sorella ma non combaciavano, insomma questo negozio di Milano e mi è arrivato l'ordine che non era neanche un ordine stupido perché non c'erano solo cose per me era anche per alcune mie allieve e niente, neanche un grazie, neanche oh che bello signora il suo primo acquisto ma neanche tramite mail, dopo un po' no, nella mail una cosa molto fredda con la, come si dice, tipo bolla insomma mi dico, non era una fattura, comunque mi era arrivato anche il riscontro tramite mail dell'ordine una cosa brutta, fredda, che sai bene che ti parte col computer, brutto, brutto, cattivi, no brutti e cattivi io mi ricordo la prima volta che ho acquistato ad esempio da un negozio francese piuttosto conosciuto dove avevo iniziato ad acquistare, no, dove avevo proseguito ad acquistare le lane islandesi e non solo, mi era arrivata la cartolina, io poi le uso come segnalibro mi erano arrivati dei campioncini di Alpa che ve li avevo fatti vedere c'è chi ti regala i segni, i marca punto oppure mi sono arrivate altre cartoline, mi sono arrivate delle cose ma anche il ringraziamento su una cartolina carina, no, un biglietto e ti basta perché poi tu la usi, ci scrivi le cose, poi la guardi, la guardi con amore non so mica solo io così, vero, no, vabbè, comunque questo rapporto con le Lollo che ci stupisce di continuo dove possiamo fare acquisti diciamo anche assaggiando tante cose dalle caratteristiche filate e dalle caratteristiche un po' diverse insomma dai soliti nomi preziosi, belli e ridondanti o dalle pregiatissime artigianali fatte a mano, tinte a mano, filate a mano che magari farci delle scorte che non finirebbero mai le nostre scorte dalle Lollo ci, diciamo, possiamo degustare un sacco di cose ecco, il botto è stato un filato che ha colpito subito la fantasia di Camilla il mio cane non riesce ad andare nella cuccia, gliel'ho fatta un po' alta uh, il vento sbatacchia le lenzuola, devo toglierlo, mi è arrivata l'ombra mi è piaciuto lasciarle al sole, sono asciugata in un anno secondo perché ho fatto una centrifuga abbastanza alta non al massimo, credo 800 giri gli ho dato sì, perché la mia va tanto, eh però qui, tanto ci sarà il sole, ci sarà l'aria ci manca mai qua il vento quindi ho detto, ma no, finiranno ad asciugare domani mattina bello, mi piace avere i panni stesi non so, mi fanno causa, beh allora, insomma, il botto che cos'è il botto? allora, il botto, che può ricordare il tweed grazie a tutta questa presenza colorata è un filato dalla mano strana lui ci arriva in cake che al tatto sono molto rustiche cartacee si ricorda anche la paglia di seta non so se avete presente il rumore spugnoso non sono ruvide sono secche non sono elastiche voi passate le dita sentite un po' vischiosette che è stata io ho le mani rovinate uso le piante cioè, lavoro con le piante se a volte mi metto i guanti con la stufa già ho sempre le mani macchiate fatevene la ragione non mi vedrete mai lo smalto non mi vedrete mai le mani curate perché lì io taglio le unghie corte che non mi devono dare di impiccio né con i filati né con quello che faccio ma è una cosa mia personale ecco, non è una critica a chi fa le belle manicure avete visto che le belle manine è mia figlia uh, lei poi si diventa amata che tocca scatole, carta che si rovinano scatoloni sposta lì, sposta là al negozio povera ciccia lei tutta ci ha sempre tenutosi da bambina alle manine alle cosine allora giocavamo le davo lacrimina sul viso perché temeva molto il freddo la sua pelle e poi ha detto lacrimina nelle manine profumino dietro le ore che giocavamo era bello e si è mantenuta così lei si dà le creme le cose io quando mi faccio la doccia già mi rompo che mi devo dare non so la crema in faccia mi scoccio oh mamma mia no, no, no non amo darmi tanta roba già quando mi ricordo che mi vedo le gambe squamate vado lì ci do con l'olio di mandorle ma se non mi guardo con gli occhiali non vedo niente mi fado dritta poi quando sento la pelle tirare dico però sono una capra magari mancasse la roba ce l'ho lì l'olio e datelo no, sono figa mentre do spesso la crema nelle mani perché usando la così infornando la legna nella stufa le mani si disidratano si spaccano si rovinano e va bene la crema nelle mani la do perché se no lavoro male con i filati allora torniamo al botto il botto si presenta in un modo ma al lavaggio diventa qualcos'altro adesso ve lo faccio capire così si vede si vede già dal colore si vede dalla codina come diventa quando si lava questo è stato il primo campioncino che ho fatto perché volevo l'avevo già toccando l'ho detto te a bello non sei così l'ho lavato ed infatti mi sono tenuta non stretta con il calibro a vederlo così uno diceva vabbè a te ti lavoro col 3-3,5 anche no andiamo subito col primo campione col 4 e verifichiamo la nostra mano al lavaggio al lavaggio dopo il lavaggio stabiliremo se è il caso di usare un 3-75 un 3,5 o magari per voi anche un 3 e perché perché dico anche un 3 perché se uno non riesce a regolare la tensione intorno al ferro adesso qua lo vedete lavorato doppio e quindi rimangono molto staccate le asoline da sotto con il 3 recuperate quello spazio con il 3 o con un calibro inferiore considerando anche altri filati ecco recuperate quello spazio che non riuscite ad evitare per voi anche la natura del filato questo è un filato piuttosto corposo piuttosto rigidello non è niente elastico ma manca un po' cosa che non sembrava al lavaggio perché se vedete lo tirate insomma è diverso è tanto diverso è molto diverso ecco ecco perché bisogna fare i campioni e lavarli questo è semplicemente un campione di conoscenza poi i campioni si devono fare di dimensioni diverse con i punti che si pensano poi di utilizzare nel proprio capo nell'oggetto immaginato e con i calibri e con più calibri alcuni con alcuni si si azzecca al volo il calibro adeguato alla mano ed al filato a volte serve fare più di uno con il bomber con il botto ne ho realizzati guardati qua quanti eccoli questo l'ho fatto oggi per farvi vedere una cosa che sarebbe la costa che ho appreso grazie a Natalia del canale maglia facile maglia di assiolo sofisticato facile ci piego un po' a ricordarmelo questa è la costa decorativa che lei consiglia per ottenere elasticità dai filati che non hanno nessuna intenzione di definire le coste le coste noi le scegliamo sia per una questione estetica coste 1 e 1 costa 1 e 2 costa 2 e 2 costa 2 e 3 costi quel che costi insomma noi affrontiamo sta vita così però ci però ci sono filati dove la semplice costa non è sufficiente a recuperare o ad ottenere un'elasticità che ci serve vuoi per tenere accostato il capo vuoi per ottenere un volume per accentuare un volume che poi dovrà svilupparsi sopra a quella costa ecco ad esempio una sciarpa che poi non vi che non vi porterebbe via tanto filato è quella proprio fatta a coste con il botto vi piace il cambio punto ma non volete utilizzare troppo filato perché le coste essendo ravvicinando il lavoro accentuando l'elasticità dei filati di un certo tipo arriviamo ad avere delle dimensioni ridotte rispetto al numero delle maglie utilizzate rispetto poi quello che manifesterebbe quel filato con una maglia rasata in questo caso le coste rendono quanto una maglia rasata sembra stirato questa pezza adesso qui vedete un rilievo perché ho lavorato con l'ago adesso ne parleremo di questa cosa eccoli qua tutti i campioni lavati sono tutti i campioni lavati voi dove ho lavorato con un capo singolo del botto e voi dove ho lavorato con due capi come in questo caso e avevo utilizzato non so se l'otto e mezzo o il nove facile il nove qui ho un otto che è stato poi il calibro che ho deciso di utilizzare per il bomber di Camilla il bomber che cos'è è un capo è un giubbino abbastanza corto diciamo non sotto le tette ma insomma è un giubbino tendenzialmente corto la versione femminile più contemporanea un po' anni 80 diciamo che può avere le maniche a raglan o a giro con la spalla leggermente bassa il collo può essere alto piegato alto semplice oppure ha il listino basso mediamente basso che poi si stonda mentre si collega ai due margini laterali anteriori quindi nell'apertura il bomber vuole determinati volumi sia nella manica ce ne sono di esagerati di più contenuti però non offre di solito una manica aderente vuole il polso alto ma l'abbiamo visti anche col polso basso vuole il bordo alto al punto vita ma l'abbiamo visti anche di bassi la bottonatura può essere con la cerniera la doppia cerniera la zip la zip con gli automatici nascosti oppure i bottoni noi abbiamo scelto poi i bottoni e anche i bottoni abbiamo scelto cioè noi avevamo di due tipi di bambù un po' più caldi nel colore quelli di tiger e poi un altro non so se di bambù o di legno che è acquistato online una confezione da miliardi di pezzi visto che Camilla fa spesso cose alle bambine fa le cosine nel suo spazio le pezze coordinati cagnolini padroncine e via dicendo quindi misure diverse abbiamo scelto il bottone la dimensione come distanziarlo anche perché è un filato poco elastico che temevo anche con un peso che mi potesse rendere in un modo non simpatico invece con i bottoni si è comportato bene ho fatto delle asole non ho predisposto delle asole proprio perché sapevo più o meno con quale diametro avrei potuto poi vedermela con i bottoni ho semplicemente allargato le maglie nel punto del bordo che ho creato in verticale delle coste in verticale quindi semplicemente allargando vedete così ho segnato la parte sopra e la parte sotto con dei punti e basta quelle sono le asole che Camilla vedrà e non sono stata a rifinire con un punto smerlo anche no mi sarebbe venuta fuori una pescionata semplicemente aperte in quel modo le considerazioni che abbiamo dovuto fare sono state proprio quelle riguardo a ecco ha lasciato mezzo copertone sullo spigolo poi le case hanno ancora i paraspigoli di pietra e meno male quando ancora viaggiavano le carrozze allora abbiamo dovuto fare tante considerazioni la prima riguardo appunto a questa assenza di elasticità però guardate quando si lava come si comporta lui è molto molto ritorto come filato guardate questa codina questo è uno dei campioni che non ho lavato e l'ho utilizzato proprio per imparare a realizzare la costa la mezza costa inglese ne ho trovati vari tutorial vari esempi tecniche completamente diverse ho scelto quella che mi piaceva di più ho imparato anche a capire a trovare il famoso punto sotto lavorate nel punto sottostante quando le spiegazioni erano solo scritte non c'erano neanche gli step fotografici e vattene la pesca e poi quello sopra dove va ecco è stata tutta un'avventura così e invece è stato non ho fatto mai la maglia inglese ho fatto dei campioni non mi venivano bene non li capivo mi venivano brutti poi mangiavano un sacco di filato la mezza costa inglese questa mi è piaciuta tantissimo e poi lui si manifesta ganso adesso poi lo laverò e vedrò anche come renderà da lavato è un filato nervoso è un filato che è vero che non è elastico ma è molto molto torto vedete le fibre sono molto ritorte è ricchissimo di inclusioni questo effetto bottonato come si è alzato il vento mi sbatte le finestre appena di sopra e la minù abbaglia il gatto che non se la fila di pezza allora è decisa la foggia stabilita la linea stabiliti gli scalfi scalfi molto profondi raglan c'era da vedersela con il volume e i bordi quindi non ho aumentato solo nei bordi delle maniche ho fatto il bordo e poi ho aggiunto ho aumentato il numero delle maglie mentre per il davanti i due davanti e il dietro ho semplicemente variato il calibro mi è andata bene così non lo volevo più ricco quindi ho lavorato con due capi già nel bordo ferri del 6 e mezzo nella maglia rasata poi nella parte superiore ho utilizzato i calibro dell'otto i ferri dell'otto quello che mi vedete adesso queste belle punte che mi cade giù tutto ecco vedete ecco bambù di tiger mi sono trovata bene e la costa che vedete illustrata qua che ho appreso appunto nel canale di Natalia è una costa 3 e 2 2 maglie rovesce 3 dritti dove la maglia dritta centrale viene non viene lavorata ma viene ritorta due volte si impara velocemente è una manovra che è anche meno noioso la realizzazione quindi come vedete si alza nella parte centrale nella parte ecco sul rovescio che cosa abbiamo abbiamo eccola qua abbiamo la maglia che non abbiamo lavorato perché viene semplicemente ritorta ma passata senza lavorarla ecco e qui abbiamo la maglia che non è stata lavorata ma verrà invece tricottata a rovescio come le altre sue compagne questo vedete come cosa crea qua al centro si si vede che è più profondo ma diciamo col lavaggio poi vedrete il poster ne ho già pubblicato uno vedete anzi su instagram approfondiremo un po' di più questo argomento è proprio comunque un filato che si sdraia lui si rilassa e si sdraia è bellissimo nella maglia rasata sono curiosa di vederlo con altre lavorazioni la maglia rasata è bellissima col giubbino è veramente gradevole da vedersi addosso e perde l'aspetto secco rustico cartaccio ecco vedete qua ma non è vellutato ecco è una via di mezzo fra la fra le tante maglie lane secche che vediamo non ritorte è meno spugnoso diciamo delle plotulopi anche se poi quando noi le laviamo cosa manifestiamo eccolo qua questo un filato strano che si mantiene ritorto ma assai dilatato la nostra amica gloria pennati dice rilassato e ha ragione è proprio un rilassamento delle fibre che si gonfiano in maniera uniforme dal centro verso l'esterno allora per ovviare ad esempio a un cedimento strutturale nel tempo quindi se noi gradiamo questa 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 costa maggiormente rilievo anche in seguito e si dovesse poi appiattire lo possiamo recuperare ma potremmo recuperare anche guardate qua vedete potremmo recuperare anche della larghezza che non desideriamo e che magari non abbiamo considerato ecco proprio dato da questo rilassamento del filato qui abbiamo una costa 3 e 2 che poi che è nata prima 3 e 1 vedete e diventa poi 3 e 2 ce ne accorgiamo più sul rovescio che sul dritto eccolo qua vedete qui due rovesci e qui un rovescio e si apre come si può ovviare a questo senza disfare un lavoro semplicemente con il nostro amico agua da lana è una pratica che può essere utilizzata anche da chi non ha mai cucito un bottone ci vuole solo un po' di buona volontà e un po' di intelligenza insomma a volte diventiamo matte per dei problemi magari abbiamo contato male magari abbiamo sbagliato proprio la taglia oppure il filato poi nella dimensione rispetto al campione ci dà delle sorprese ma noi con l'ago e i nostri amici filati possiamo ovviare a tanto mia madre si è inventata delle pezze in una manica che è diventata troppo abbondante con un moer che l'ha fatta diventare pazza che era piaciuto tanto a mio nipote l'anno scorso gliel'ha riempito casa poi dice non so cosa farci sto moer brutto non mi piace tutto peloso tutto ciccioso poi diventa mollo come un figo e quindi gli ho detto facci delle belle sciarpe tanto sono sempre a chiedere sciarpe i nipoti allora come si può fare qui dove sei vieni qua qui ho utilizzato il dovete avere pazienza arcana baia minù vai cucetta andiamo a prendere la mandolina ho messo le chiavi sulla porta io piuttosto allora ho utilizzato lo scozia 1 per riprendere in questo caso come potete notare non si vede il colore viene completamente ho lavorato avvicinando questa costa la maglia dritta centrale guardate anche da questa parte lo tendo il colore è diverso ma non si nota quindi potete un po' arrabattarvi non vi consiglio di utilizzare lo stesso filato della produzione ma fate sempre una prova su un campione avevo preparato anche lo scozia 2 in questo color acqua marina oppure anche la shetla l'avete vista che bella la shetla l'ollo e shetla ecco deliziosa anche a lei avrei potuto rivolgermi anche perché è un filato a due capi lei comunque si gonfia e tiene tiene anche se sembra fragile perché uno lo va e lo apre oddio com'è fragile questo filato no no tiene assolutamente la sua natura è giusto che sia così non è plastica ecco i filati tantissimi filati sottili e anche più grossi si possono aprire con le mani senza nessuna difficoltà ma questo non vuol dire che noi da quel filato avremo un capo fragile anche no soprattutto dopo il lavaggio se avete presente le plotulopi quelle le guardate e si disfano le lavate abbiamo quei famosi golf idrorepellenti meravigliosi caldi leggeri spugnosi i capi islandesi allora io come posso recuperare un domani anche questa costa minuscola e su e dai che fammi fare delle figuracce che sembra una bambina aviziata invece la sei minù lei abbaia il vento abbaierei anch'io il vento mi sono scocciata del vento perché non mi fa godere la mia terrazza non ci fa stare in pace oggi comunque si stava in maniche corte allora ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere su questo campione questo ve lo lascio così poi lo laveremo e lo faremo anche di nuovo su quello allora non ve lo fermo mi sposto un po' ecco qua entro al centro guardate entro al centro della costa estrema sinistra eccolo qua sono nella seconda maglia non mi fermo adesso il filo dietro non sto a fare tutte queste cose qua fatele passo dalla parte di là entrando al centro ecco della maglia precedente e passo nella terza maglia che mi compone la costa da tre eccolo qua dove sei eccolo me lo tengo dietro fermo col dito ho le mani già gelate sarà un problema qua lavorare poi mi sposto vado eccola qua nella maglia successiva nella maglia successiva entro vado in quella dopo e passo dalla parte opposta nella maglia corrispondente vedete qua al centro no sei qua aspettate che mi stavo sbagliando ecco sei qui eccolo lì al centro della prima maglia e tiro mini poi vado a fianco ecco entro nella maglia a fianco e sbuco in quella opposta mi sposto man mano mi sposto verso sinistra vado di là e vado nella maglia a fianco a quella precedente e tiro un po' vado a fianco io non ci vedo quindi potrei anche saltarne dove stai te ecco infatti sono sbucata nel punto sbagliato vabbè allora eccomi qua ok è tutto uno zizzagare da un lato all'altro potete farlo anche con la lana doppia con un filato doppio se quella che avete per casa è sottile eccolo qua devo tirare ma con accortezza ecco così se ne saltate uno non succede niente non è che bisogna essere precisi se ne scappa uno soltanto si accosta comunque basta che arrivate in fondo allora dove sei te eccoti qua vedete come la costa si è alzata il filato è leggermente irregolare proprio perché presenta così tante inclusioni vedete che si schiaccia si schiaccia una parte della costa a sinistra della maglia dritta a sinistra si schiaccia una parte della maglia dritta a destra di questa costa ed ecco che simuliamo o recuperiamo il rilievo che ci piaceva però questo ad esempio è un rimedio è un rimedio per una costa piatta che non dà elasticità e ci permette di recuperare in tutto il bordo dei centimetri spero di essere stata chiara spero che nessuno si sia nervosito con l'abbaiare del mio cane e questo è l'esempio che vi volevo dare ecco fatto questo lo possiamo fare anche solo per un tratto può diventare un motivo decorativo perché sempre questo dipende dal volume che vogliamo eliminare dalla larghezza che abbiamo da recuperare ma può diventare un motivo decorativo quindi questo lo possiamo questo rimedio lo possiamo applicare a una costa piatta come in questo caso questa 2 questa costa 1 e 2 1 e 3 e poi 2 e 3 che è stata risultata assolutamente piatta che ci può piacere in una bella sciarpa ci può piacere anche in una bella giacca ci piace il contrasto delle coste con la maglia rasata e non vogliamo l'effetto elastico perché non è mica una legge che debba manifestarsi così ci piace ci piace questo effetto e non ci piace il doppio volume dovremmo calcolare più male invece qua con questo filato noi possiamo realizzare un golf scivolato o un cardigan dove il cambio tra costa e maglia rasata quasi non si vede quindi il rimedio con l'ago può diventare un particolare da aggiungersi successivamente possiamo realizzare queste coste rilievo alternando una costa sì una no una sì una no lo possiamo fare per un tratto e poi possiamo lasciare andare la nostra costa piatta lo possiamo realizzare su tutto il bordo possiamo realizzare su tutto il bordo questa questo questa cucitura questa pens chiamatela come volete questo rimedio ma realizzandolo in tutto il bordo possiamo comunque alternare questo effetto quindi in una costa lo faccio cuccio la pens fino in fondo lungo questa costa nella costa dopo lo faccio parziale lo faccio solo per la metà o per quello che deciderò un centimetro due centimetri tre centimetri in proporzione al bordo e all'effetto che noi vogliamo ottenere prendetevi appunti guardatevi il risultato prendetevi la nota come rimedio possibile perché poi ce le dimentichiamo queste cose quindi come posso rimediare a un bordo che si lascia andare come posso rimediare a un bordo che l'ho pensato largo ma lo voglio stretto come posso ricavare dei rilievi dove i rilievi non ce li ho ecco prendetevi appunti prendetevi a parole vostre con le vostre parole in modo che voi vi possiate capire e capirvi nel momento della difficoltà allora poi laverò questo campione laverò questo campione e li rivedremo prima e dopo capiremo la resa anche il carattere di questo filato perché è un filato che va amato possiamo realizzare la qualunque lo possiamo realizzare a un capo due capi e tre capi basta fare i campioni lavarli e ragionare su prima fare il campione di conoscenza vedere come è la nostra mano insieme a lui con i vari calibri poi e poi dedicarci alla nostra scoperta personale avventura alla ricerca del punto più bello per questo filato o del capo più adatto per questo filato vi voglio anche ricordare che il botto non è tutto multicolor nella stessa maniera quindi questo è arlecchino e manifesta questi colori poi ci può essere un altro colore che ne manifesta solo una parte o una gamma di colori possono esserci gli stessi azzurri gli stessi arancio ma non i giovanni i gialli e i rosa ogni cake ogni colore di fondo manifesta una propria bottonatura assolutamente particolare poi c'è il cugino il cugino o il fratello minore diciamo che è tweed ed è un botto molto più sottile che Camilla ha scelto nel nero per nel crema mi pare anche che ce l'ha lei a casa e quindi non me lo ricordo più ma il nero me lo ricordo perché lei si vorrà fare un gilet granni da indossare sopra a un giubino di pelle che ha da tanto tempo quindi chissà quando lo farà perché adesso sta dedicando a quel progetto avete visto nel video e chissà 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 cosa sarà e vi saluto e per qualsiasi altro chiarimento o curiosità potete scrivermi nei commenti nel box informazione vi metterò il link per raggiungere il tutorial e realizzare questa costa che a me è piaciuta tantissimo con questo filato ma la utilizzerò anche con altri perché non è detto che la si debba utilizzare solo con filati non elastici assolutamente no a presto vado a chiudere le finestre prima che mi si spacchino i vetri a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere